La showgirl Benetetta Mazza si è resa protagonista di un incidente hot che avrà sicuramente fatto piacere sia ai coinquilini uomini che a tutti i maschietti che seguono il reality più famoso del mondo. La bella 29enne dalle curve generose ha assistito impotente allo stracciarsi del proprio costume in piscina, mentre era intenta ad affrontare una sfida in acqua. La ragazza però ha optato clamorosamente per il continuare la sfida reggendosi il seno con le mani, non curante dell'effetto destabilizzante che poteva avere sui coinquilini. Di certo possiamo immaginare che il sesso maschile non sia proprio indifferente ad una bellezza simile, la Mazza, infatti, incarna il modello di donna più amato dagli italiani. Non è un caso che la ragazza, oggi 29enne, abbia svolto per moltissimi anni il ruolo di modella e che abbia addirittura partecipato all'edizione del 2008 di Miss Italia. Dopo aver partecipato a tale quale show, adesso la bella nativa di Parma ha deciso di misurarsi anche con la prova del grande fratello, riuscirà a cavarsela in questa situazione? La soluzione. La soluzione di Benedetta Mazza.Nella notte del grande fratello è in corsa una discussione di livello culturale elevatissimo tra Enrico Silvestrin, presentatore di MTV, e Fabio Basile, giudoca italiano che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Silvestrin, in barba ad ogni pudore, ha dichiarato candidamente che dopo quattro giorni di astinenza il suo corpo deve necessariamente cedere all'autoerotismo. Fabio Basile ha approvato il ragionamento dando la sua solidarietà e il suo consenso, ma poi ha posto un serio problema, dove svolgere la funzione fisiologica? Silvestrin ha obiettato che era impossibile per lui visto che le telecamere erano dappertutto, anche in banni. E allora è intervenuta la bella Benedetta Mazza che ha gettato benzina sul fuoco, non pretenderete mica che vi aiuti io, vero? È stato il suo commento piccante. Poi ha aggiunto, potete sempre rannicchiarvi sotto le coperte e fare lì sotto, no? Insomma, il grande fratello è ancora agli inizi ma già il clima all'interno della casa si sta facendo bollente e per certi versi disperata. Chissà quanto durerà questa pace apparente? Sono giunonica. La forma fisica di Benedetta Mazza, nonostante l'innegabile bellezza, ha fatto notevolmente discutere. Molti, infatti, hanno criticato la 29enne per via del suo aspetto, considerando che per certi puristi la bionda ha qualche modo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.